Le poltrone saranno vuote, ma il palco sarà più pieno del solito. Il tradizionale appuntamento di fine anno con i comici del San Costanzo Show cambia inevitabilmente pelle, perché saranno affiancati niente meno che dall'orchestra sinfonica Rossini per uno spettacolo a cavallo tra musica e risate, ma anche perché, per la prima volta, il pubblico non si troverà dentro il teatro della Fortuna di Fano, ma assisterà direttamente da casa. È infatti tutto pronto per la terza diretta streaming del Natale Più, fortemente evoluta dall'amministrazione e frutto della sinergia con realtà come la Proloco e lo stesso teatro cittadino. Lo spettacolo, dall'eloquente titolo Sconcerto delirico, sarà visibile in diretta su Rossini TV la sera del 31 dicembre a partire dalle ore 23. Un altro appuntamento che sarà in diretta su Rossini TV, su tutti i canali social del Comune di Fano, sarà quello del 31, la serata di Capodanno, un modo attivo per far lavorare insomma il mondo dell'arte e dello spettacolo, un modo per entrare nelle case dei cittadini, un modo per passare una serata insieme in modo divertente, in questo caso con l'orchestra sinfonica Rossini e con gli amici del San Costanzo Show e brinderemo insieme insomma la mezzanotte nella speranza che il 2021 sia un anno migliore di questo 2020. Sarà una serata, la classica serata di fine anno, quindi il tema è divertirsi e l'altro tema è quello di unire, come abbiamo fatto per i precedenti eventi, l'orchestra a qualcos'altro che permetta questa suggestione, cioè il divertimento. Questo qualcos'altro sono i comici del San Costanzo Show con i quali abbiamo già collaborato e che io personalmente ritengo davvero bravissimi, dico sempre che la cosa più difficile su un palcoscenico e far ridere e quindi tanta stima nei loro confronti. Faremo con il nostro quintetto d'archi delle musiche di repertorio, di musica da camera, commentate in modo davvero molto divertente, ho visto le prove, vi assicuro tantissimo divertimento, dal San Costanzo Show per cui eseguiremo il Dvorjak, Bizet, Offenbach, Kurt Weill e quindi sarà una serata che ci permetterà di arrivare alla mezzanotte e in questo percorso cercheremo anche di includere alcuni spettatori da casa, non svelo di più, però per permettere a questo appuntamento di recuperare un po' di quel pubblico che fino ad oggi abbiamo dovuto tenere fuori dal teatro. Il San Costanzo Show tutti gli anni fa il Capodanno Teatro e anche quest'anno ci tocca fare il Capodanno Teatro, volevamo andare in vacanza ai Caraibi, chi voleva andare in Sud Italia, chi voleva andare in Francia, ma giustamente non possiamo andare da nessuna parte, siamo in zona rossa per cui siamo a teatro e vi terremo compagnia tutta la serata, dalle 11 di sera fino a mezzanotte un quarto a Reti Unificate, andremo su Rai 2, su Canale 5, siamo su Rossini TV, dovete essere tutti collegati su Rossini TV, mi raccomando, dalle 11 abbiamo un grande spettacolo noi insieme all'Orchestra Rossini di Pesaro, quindi saremo insieme a fare questo grandissimo spettacolo, ma volevo dirvi qualcosa in più, il nostro direttore artistico ci parlerà che cosa? diranno i comici, direttore artistico? Francese, Francese, Bertulli? Io mi chiamo Bertulli Bougonville e parlerò dello spettacolo e non posso parlare perché il regista non vuole che abbia un discorso dello spettacolo. A parte non si è capito niente, traduco io, non può parlare dello spettacolo perché il regista non vuole. Il regista non vuole. Allora che cosa mi ha detto che parlava dello spettacolo, scusi? Vabbè, vabbè, vada via, vada, non possiamo intervistare, non possiamo dirvi niente, ma potremmo dirmi che i personaggi ci saranno, ci sarà Orietta Pedotti, ci sarà Rosa della Cecca per chi conosce i nostri personaggi, ma anche da Pesaro avremo fantastici ospiti, quindi tutta la regione sarà rappresentata dalla bassa all'alta marca e anche la Francia abbiamo detto e quindi ciao a tutti, ci vediamo il 31 alle 11, dalle 11 alle mezzanotte un quarto, non dovete perdere assolutamente niente e poi il cotechino, le lenticchie, continuate a mangiarli dopo la mezzanotte, ma fino alle 11 poi dopo, mi raccomando, a tutti quanti, Capodanno con San Costanzo Show dal Teatro della Fortuna, Rossini TV